Una situazione difficile per tutto il comparto sanità è il quadro fornito da Pietro Antonacchio, segretario provinciale della CISL Funzione Pubblica. A preoccupare in particolare è la questione legata al personale, di cui la richiesta di nuove assunzioni, chiamate a dare ossigeno ad un settore che ne ha grande necessità. Una situazione difficile per tutto il comparto della sanità, nella ASL e nell'azienda ospedaliera Ruggi. A più riprese abbiamo chiesto un intervento urgente per reclutare. Oltretutto è proprio di ieri un articolo di Bianco su Sole 24 Ore che ha detto che bisogna fare a una situazione eccezionale, bisogna trovare rimedi eccezionali. Invece purtroppo il burocratismo ostruzionistico e la lentezza amministrativa stanno decretando effettivamente la morte per consuzione di tutta la sanità pubblica su tutto il territorio di Salerno. Bisogna fare assunzioni, bisogna reclutare immediatamente fra le graduatorie utili che hanno per il personale infermeristico e operatore socio sanitario perché hanno delle graduatorie e hanno anche delle difficoltà nel reclutare quelle persone perché ormai sono passati anni e molti di loro rifiutano un reclutamento per pochi mesi. Quindi bisogna dare una scossa sulle procedure di reclutamento. Io so che i direttori sono stati obbligati a verificare effettivamente il fa bisogno alla luce della legge della quota 100, alla luce dei pensionamenti, alla luce dell'ape sociale, dell'opzione donna, delle anzianità pensionistiche, per lavori usuranti e notturni. Quindi bisogna che ci si dia una mossa nell'immediato altravendo quest'estate sarà un'estate molto molto calda per gli operatori ma soprattutto per tutti gli utenti che purtroppo avranno la sfiga di cadere ammalati in questo periodo.